Sono stati molto bravi ad aprirsi un barco nella difesa avversaria, hanno sfruttato al meglio il calcio a piazzare. Era un'occasione davvero troppo importante per lasciarsela sfuggire, non l'hanno sprecata. Punizione perfetta. Occhio alla punizione, una bella punizione, ma certo l'atteggiamento difensivo è da cancellare. Bel gol, certamente, ma ci sono anche le responsabilità della ripesa. Punizione perfetta, chirurgica, che ha lasciato di stucco il portiere. Traiettoria. Hanno segnato tutto secondo pronostico, sono la squadra favorita, hanno tirato sicuramente di più fin qui. Sì, stanno gestendo, stanno controllando la gara a loro piacimento, come dimostra anche il numero di palle e gol.